Questo è il magazzino di Antonio. La sua azienda ha montagne di merce invenduta, un vero capitale inutilizzabile. Aveva provato a rivolgersi a diverse ditte di stocchisti, ma più che vendere sarebbe stato costretto a svendere a prezzi ridicoli. Poi, grazie ad un suo amico commercialista, ha scoperto che altri imprenditori come lui avevano risolto quel problema, addirittura guadagnando dalla cessione del magazzino. Grazie al modello di business unico in Italia di Portobello SPA, società leader nel media barter e supportata da Portobello Consulting. Come funziona? Se hai bisogno di liquidità o se il tuo magazzino è diventato un peso, puoi cedere a Portobello i tuoi prodotti. In cambio, ricevi pubblicità tailor-made per la tua azienda per un costo equivalente a quello dei tuoi articoli. In pratica basterà fatturare a Portobello la vendita della tua merce, ricevendo in cambio la fattura della stessa cifra per le campagne pubblicitarie. È così che Antonio ha ceduto al prezzo retail gli articoli che teneva in magazzino, ricevendo in cambio pubblicità senza dover sborsare neanche un euro e beneficiando di un ulteriore guadagno. L'ultimo decreto rilancio, infatti, permette alle aziende che spendono in campagna di marketing di ricevere un credito d'imposta fino al 50% dell'investimento. A conti fatti, Antonio ha barattato i prodotti del suo magazzino che non riusciva a vendere con una pubblicità efficace che non ha pagato e dalla quale guadagnerà. Insomma, in un solo colpo ha spazzato via parecchi problemi, ha aumentato gratuitamente la sua visibilità, ha incrementato il fatturato, ha ottenuto un credito d'imposta e ha liberato il suo magazzino. Sei un agente di commercio o commercialista e hai clienti o amici imprenditori in queste condizioni? Contattaci per saperne di più.